forse non averla vinta è stata la soluzione giusta perché non averla vinta significa non poter dare diritto di parola a quelle persone che difendono l'allenatore del milan nome stefano cognome pioli che il giorno che verrà esonerato sarà la mia ottava perché quel giorno lì ragazzi io farò un festino tutti i milanisti invitati perché questo è quello che ci meritiamo l'unica spiegazione al risultato di stasera c'è otti giocano contro cosa che spero o non c'è o sei veramente stupido perché c'è un purtroppo di mezzo il purtroppo è uno che per essere esonerato pioli deve avere una striscia negativa che questa è niente tra l'altro vi ricordo che se non vinciamo con l'udinese festeggiamo un mese senza vittoria e due i cambi in corsa spesso sono dannosi sono molto dannosi come è dannoso pure un allenatore che oltre ad avere tre infortuni a partita perché mi hanno giocato esattamente 10 partite di campionato e 13 champions league 13 partite stagionali 19 infortuni 19 infortuni ragazzi è un dato preoccupante è un dato che è anni perché è anni che denunciamo il fatto che pioli non sa gestire i preparatori e noi anzi non noi voi 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 continuate ad ammirare un allenatore come lui dopo psg milan ho ricevuto un commento la parte di probabilmente uno che deve essere caduto dal seggiolone parecchie volte da bambino dicendo che non ho il sentimento del milan perché di qui perché di là perché non sa cosa vuol dire andare allo stadio perché non so cosa voglia dire andare in curva non serve andare allo stadio per vedere i risultati di una squadra del cazzo il milan oggi intanto andiamo da complimenti partiamo da complimenti a napoli perché all'intervallo il risultato così era l'ultima cosa a cui qualsiasi persona anche che non conosce il calcio avrebbe pensato il napoli ha dato una lezione al milan nonostante nessuno di due abbia vinto il napoli ha insegnato al milan cosa vuol dire essere una squadra con i propri pregi e con i propri difetti ma l'ha voluto dimostrare perché il napoli ha approfittato di una partita che il milan non avrebbe mai vinto nonostante il 2 a 0 e soprattutto ha approfittato di una partita che a parte invertite se il 2 a 0 fosse stato per il napoli il milan non avrebbe mai recuperato e questo l'abbiamo visto tre giorni fa a parigi pari san germe e milan risultato 1 a 0 pulisic sbaglia un gol a porta vuota rivaltamento offensivo gol del 2 a 0 questa ne è la dimostrazione io non non riesco neanche a soffermarmi più di tanto sulla partita perché c'è la situazione del milan è così evidente che qualsiasi persona ne parli direbbe cose troppo scontate c'è basta sedersi pendersi un'ora e mezzo della propria vita sedersi su una sedia o su un divano o andare al bar al pub dove volete voi guardare la partita e dedurre le conclusioni perché una qualsiasi persona anche un bambino di 5 anni 4-3 che non sa neanche di che forma è una palla da calcio riuscirebbe a trarre le conclusioni che il milan è una squadra del cazzo pioli ha scoperto scoperto l'ha scoperto lui perché noi lo sapevamo già che ad lì è un giocatore fortissimo ma andiamo in campo cronici certo chi è rotto ciao squalificato caro l'ultima spiaggia al centro della difesa si rompe non l'ha rotto chi è la Kvaraskele con quel fallo non l'ha rotto lui l'hai rotto tu con i tuoi preparatori del cazzo l'hai veramente rotto tu chi mandi in campo Pellegrino persona prestata al calcio penso per scherzo si fa saltare clamorosamente sul gol del 2-1 mandi in campo Romero perché? perché Pulisic sentono affaticamento in via precauzionale fa il fallo che porta alla punizione del 2-2 questo è Milan che tranquillamente nel primo tempo aveva per effetti 5-6 tranquillamente forse uno avrebbe potuto fare anche il Napoli ma Milan nel primo tempo è fuori dubbio che abbia dominato perché penso sia abbastanza palese la cosa però questa a differenza di quella testa di cazzo io non la uso come attenuante il fatto che tu nel primo tempo abbia dominato e poi non hai vinto la partita è grave non è un bicchiere mezzo pieno è un bicchiere totalmente vuoto tu hai dominato la partita nel primo tempo nel secondo devi fare 10 volte di più perché se fai 20 volte meno questi alla prima occasione buona ti puniscono rinders che c'è questo fetish per sbagliare gol perché forte 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 ma ragazzi un rigore in movimento un rigore in movimento una palla che bastava appoggiarla ragazzi bastava appoggiarla in porta non ne veniamo a capo ultimo episodio poi chiudo il video perché la mente non mi è rimasto niente da dire e perché soprattutto mi sono rotto le palle di ripetere sempre le solite cose tu togli leao e girù quelli ti sbroccano in faccia e vuoi anche avere ragione io mi chiedo con che coraggio Maldini ti abbia rinnovato per altri quattro anni e io veramente ho finito le parole e spero di poter portare delle novità dopo il tuo esonero prima di lasciarvi vi faccio una lista vi leggo una lista che aggiornerò di partita in partita perché ce ne avremo ancora parecchie da raccontare da quella fine Milan-Roma 2-2 da 2-0 Lecce-Milan 2-2 Milan-Torino 0-1 con 36 tiri di cui sono i 7 in porta Milan-Inter 0-3 Lazio-Milan 0-4 Lazio-Milan 4-0 Milan-Sassuolo 2-5 Inter-Milan 1-0 Fiorentina-Milan 2-1 Milan-Salernitana 1-1 con un solo tiro in porta da parte della Salernitana Udnese-Milan 3-1 Milan-Cremonese 1-1 con un tiro in porta da parte della Cremonese Milan-Empoli 0-0 Inter-Milan complessivo 3-0 in Champions League Spezia-Milan 2-0 Inter-Milan 5-1 Milan-Juventus 0-1 con un solo tiro in porta PSG-Milan 0-3 Napoli-Milan 2-2 da 2-0 ecco letto l'elenco della vergogna a voi i commenti a voi tutto il resto ci vediamo con la bellissima live reaction a voi